Nuovo colpo di mercato per il Termoli. Questa mattina ha firmato l'attaccante pugliese Giuseppe Genchi che lo scorso anno ha giocato in Serie D con la maglia del Bisceglie. La classe 85 ha avuto molte esperienze non solo nel campionato di Serie D ma anche nei tornei di C1 e C2. L'attaccante giallorosso va a completare il reparto offensivo del Termoli insieme a Capitan Simone Miani. Saro Trillini potrebbe schierarlo in campo già giovedì quando al Cannarsa arriverà proprio la sua ex squadra il Bisceglie per una amichevole. In serata, sempre giovedì, a partire dalle 21 ci sarà anche la presentazione ufficiale della squadra del Termoli targata 2013-2014.